Ebbene, eccoci di nuovo insieme. Sono felicissimo stamattina di ospitare negli studi di Padre Pio TV Vincenzo Belpiede, che è un innovatore e imprenditore digitale e con il quale parleremo di questi temi così attuali. Buongiorno Vincenzo, ben trovato. Buongiorno, che bello vederti. Grazie a te per essere qui con noi oggi. Oggi partirei innanzitutto dalla tua storia. Non abbiamo moltissimo tempo a disposizione, ma sono fiducioso che riuscirai a sintetizzarla. Nato a Canosa di Puglia, cresciuto a Cerignola fino ai 14 anni, poi studiato a Roma, una scuola americana a 3 anni, 5 anni a Milano in Bocconi, 7 anni in giro per il mondo con Nokia e Microsoft tra Finlandia, Germania, Cina, California. Sono rimasto lì 8 anni. E poi, dopo essere uscito dal mondo delle grandi aziende, abbiamo iniziato a costruire vari software. Dopo aver preso il passaporto americano nel luglio 2017, quindi oramai 7 anni fa, sono tornato in Puglia a vedere un po' com'è, però ogni giorno di più mi sono sempre rinnamorato e non sono più ritornato in America. Quindi, nonostante potrei ogni giorno, è stato bellissimo essere qui, aver fatto tante cose belle, tanti bei software, che ne parleremo. Complimenti intanto per la sintesi. Due o tre punti saldi. Oggi il mondo dell'innovazione, della tecnologia, dell'informatica rappresenta una preziosissima opportunità per tanti giovani che cercano lavoro. Però la tua esperienza di vita ci insegna che bisogna essere formati, molto competenti, che bisogna studiare e non bisogna rinunciare a fare esperienze anche all'estero. Poi, ovviamente, c'è il fascino, la nostalgia delle radici, il fascino di una terra come la Puglia che sa attrarre e richiamare a sé i propri figli, ma non solo. Quindi, procediamo con ordine. Ecco, bisogna prepararsi per affrontare le sfide del nostro tempo. Allora, sì, però ora possiamo fare leapfrogging, che in inglese vuol dire fare un salto, tipo la rana che fa un salto così. Quindi, per esempio, io sto stando in Bocconi, ma non consiglio di andare in Bocconi. Non serve. Puoi studiare tantissime cose online, ora imparare tantissimo. Puoi imparare anche l'inglese online. Magari dobbiamo attrarre più talenti dall'estero. Però puoi fare ora tantissimo anche senza un titolo di studio. Puoi imparare tanto online sul computer. Il prossimo meeting, come sai, con un ragazzo di Manferdonia che ha fatto 60 milioni di downloads da qui, dalla nostra provincia. Quindi, ora, così com'era, è possibile fare tanto online. Quindi non dobbiamo andare per forza più al nord, nemmeno... All'estero già c'è un vantaggio culturale. Ma possiamo fare tanto da qui ora, con l'internet che è finalmente arrivato. Beh, allora, partiamo proprio dalle basi. Ci vuole sicuramente, e credo che me lo confermerai, grande determinazione, grande spirito di iniziativa, grande volontà e avere degli obiettivi precisi. Sì, lì è dove magari persone come me, che sono tornate e ce ne siamo sempre di più, tornano con questa carica molto più positiva della persona che è rimasta qui. Perché ci abbiamo, magari anche per ragioni storiche, essendo sempre stati colonizzati e conquistati, siamo un po' che non si può fare, non va bene, eccetera. Poi invece, quando torni dall'estero, dici, mazza che bello, ammazza come si mangia bene, belle le autostrade, vabbè, ce ne mancano un po' al sud, però dai, l'aeroporto di Bari è migliorato, cioè la fibra ottica e la tranquillità. Sono tante le cose belle che abbiamo e che non ci rendiamo conto quando poi non andiamo all'estero e vediamo quanto manca a tanti altri paesi del mondo, purtroppo anche tanti più poveri. Esatto, esatto. Condivido a mia volta quello che dici tu. Che consiglio ti sentiresti di dare quindi ai giovani che magari escono dalle scuole superiori o affrontano il proprio percorso universitario e che appunto restano nei propri territori d'origine? Io credo che il più possibile state online, però invece di giocare videogiochi, andate su piattaforme gratis come Udemy, Corsera, andate su LinkedIn, LinkedIn si dice all'italiana, non su Facebook o TikTok, cioè cercate di diventare come hai fatto tu, da qui, professionista nel settore digitale, cioè andate e gli incontri che tu organizzi, dovremmo organizzarne più di questi perché credo che poi la gente si vuole vedere, ha bisogno di imparare cose molto fattive, vai, usa Canva, usa tutti i vari strumenti online, usa CiaGPT, cioè potremmo stargli a fare un elenco enorme, però credo che anche noi da innovatori dovremmo organizzarci meglio a fare più di questi corsi molto terra-terra fattivi che magari portano i giovani a poter vendere delle nuove skills in maniera veloce. Ecco, Vincenzo, sostanzialmente vi ha detto quello di cui mi occupo anche nel tempo libero, in un centro giovanile dove facciamo cultura, ma ecco, non cultura fino a se stessa, cultura tante volte intesa come luogo generativo di buone pratiche e tra queste buone pratiche oggi deve esserci più che mai anche una nuova cultura imprenditoriale. È digitale. Un nuovo approccio alle cose, ma anche un nuovo modo di relazionarsi con le persone per costruire un mondo nuovo. Sì, è il mondo che esiste già, che dobbiamo entrare, dobbiamo muoverci perché esiste questo mondo reale che noi vediamo qui, il panettiere, la drogheria, eccetera, e noi da qui oggi con più competenze, con computers, con fibra ottica, possiamo entrare e creare prodotti software come per esempio abbiamo fatto con Calenbook.com made in Cerignola in Puglia, fatto a Cerignola, che è un software che permette di condividere con un link i tuoi slot liberi nel calendario e la gente ti prenota. Abbiamo fatto tanti altri software, ora anche live chat, quando vai su un sito e chiedi qualcosa, powered by AI. Io non parlo più italiano, oramai questo è il mio problema. Eh, traduci però. Diciamo la live chat che è quando chiedi qualche informazione su un sito, ti risponde subito all'intelligenza artificiale. Questo nuovo sito si chiama AIliveagents.com e questo creato a Bari, con un ragazzo di Bari bravissimo, probabilmente subentrerà anche una ragazza ex Apple che lavorava sull'app di Apple, quindi stiamo anche cercando di unire talenti fortissimi della nostra regione, tecnici molto bravi, con talenti dall'estero, perché una cosa bellissima che ha fatto la regione Puglia sono bandi come il bando Tecnonidi. Ecco, ricapitoliamo e aggiungiamo. Ci vuole un grande entusiasmo, una grande determinazione, poi ci vogliono competenze che si possono acquisire in mille modi, come hai detto tu, e poi stiamo vivendo effettivamente un momento storico molto interessante anche perché le istituzioni, come la regione Puglia, mettono a disposizione tanti bandi per la misura di start-up, come si suol dire, per consentire e facilitare l'avvio, quindi mettendo a disposizione anche dei fondi. Tanti a fondo perduto e voglio fare un grande applauso alla regione Puglia. Io e tanto anche grazie a loro a queste misure che sono rimasto voglio rimanere e voglio aiutare più grandi talenti a creare più software qui dalla Puglia che poi possiamo vendere in tutto il mondo, perché quello che ne ho detto prima è che entriamo in questa economia digitale che è accessibile a chiunque, da qualsiasi posto e diamoci da fare e vendiamo lì, non solo nel locale. Quindi bravissima la regione Puglia e dico a tutti i giovani di interessarsi, di andare sempre più all'evento, hanno fatto un bellissimo evento alla Fiera del Levante settimana scorsa. Mare a sinistra. Sì, quello, ma tantissimi. Uno c'era proprio su avere feedback da noi start-upers e founders di aziende tech che utilizziamo questi bandi, capire come farli meglio. Ci sarà anche il Puglia Equity, dove entreranno dei Venture Capital. Insomma, stanno succedendo veramente tante belle cose in Puglia, quindi non ve ne andate ragazzi giovani, rimanete qui, informatevi, studiate, ma non ve ne dovete più andare. Questo è il messaggio che vorrei dare. Vincenzo, io ti ringrazio tantissimo perché la tua testimonianza oggi è di cruciale importanza per le nuove generazioni e pregherei tutti i genitori, zii, nonni, all'ascolto di parlare ai vostri figli e ai vostri nipoti di queste opportunità perché poi bisogna avere ali ma anche radici. Radici e ali sono due dimensioni che possono permetterci di crescere personalmente ma anche di fare crescere il contesto in cui viviamo. E se posso, se volete chiedermi qualsiasi cosa, vincenzobelpiede.com, c'è una live chat lì, vi risponde prima all'intelligenza artificiale e poi cerco anche di rispondervi io su LinkedIn, mi piacerebbe molto aiutare più persone nel territorio e conoscere più persone. Grazie, grazie mille per la disponibilità. Siamo innovativi, non a chiacchiere. Vincenzo, ma con i fatti, vincenzobelpiede.com, contattatelo per avere consigli, suggerimenti, non mancherà di darvi il giusto supporto in fase di scelte. Bene, Vincenzo, grazie davvero di cuore. Mi auguro di ritrovarti presto in questo studio. Organizziamo più cose insieme perché mi ha fatto troppo piacere rivederti. Sei una bellissima persona. Piacere mio, troppo buono. A presto. Grazie. Ciao, Vincenzo. Linea alla regia. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.